Il successo del nuovo track Ford ci dimostra quanto sia importante la comunicazione online. In questo caso Ford che cosa ha fatto e che cosa ci può essere utile a noi per imparare qualcosa? Prima di tutto ha lanciato un'auto, un veicolo, in questo caso un track, quindi il classico track americano importato in Italia ma che nessuno voleva, ha puntato su Instagram, quindi ha puntato su un social, su un posto dove i giovani si ritrovano. Già questa è una mossa piuttosto avventata si potrebbe dire per una causa automobilistica, ma che cosa ha voluto fare Ford? Ha voluto presentare un veicolo giovane e dove l'ha portata? Nella piattaforma dove si trovano i giovani e dove l'immagine, in questo caso Instagram, è quella che conta di più. Cosa ha fatto poi? La pubblicità, come è stata strutturata la pubblicità del nuovo track della Ford? Un ambiente estremo, il track che si confronta con veicoli estremi, sulla sabbia, contro le moto da cross, è anche molto bello come trailer, sembra che venga inseguito, lui il veicolo batte tutti quanti. Questo perché? Per dare un'esperienza, perché che cosa fa lo spettatore quando vede un'auto, in questo caso un track 4x4, fare quelle cose lì contro, tra l'altro, motorizzazioni più specializzate. Ti dà un'esperienza perché ti fa vivere in prima persona, quello che potresti fare se acquisti questo prodotto. Qui la forza di Ford nel strutturare questa pubblicità. Dare la percezione di avere un'esperienza estrema, piacevole, sportiva, per chi acquisterà quel prodotto lì. Quindi non viene più vista l'auto in sé come il classico track, trasporto, persone, merci, ma un mezzo con cui si può vivere un'esperienza. Un'esperienza off-road molto particolare, dove non ci sono limiti, dove non ci sono confini. Questo è il messaggio che trasmette la pubblicità. E questi messaggi fanno molto leva, specialmente nel mondo di oggi, accostare un veicolo a libertà, sport estremi, fa molto, molto leva sui giovani. E infatti Ford lo ha dichiarato, tranquillamente vuole accaparrarsi quella fetta di giovani che sono interessati a quel prodotto. Scusate, prurita al naso. Quindi ricapitolando. Innanzitutto, prima fase, entrare non in televisione, ma su una piattaforma social dedicata all'immagine, Instagram. Secondo passo, dare allo spettatore la possibilità di poter vivere un'esperienza se si acquista un prodotto. Di conseguenza non si acquista più un prodotto, si acquista un'esperienza che si vivrà attraverso il prodotto. Ford, in quel momento, nella pubblicità, non ti sta vendendo il prodotto, il track, ti sta vendendo l'esperienza che proverai acquistando il track. Che sono due cose molto diverse. Dal mio punto di vista, visto che mi occupo di social media marketing ed immagine in generale, penso che questa sia una pubblicità molto azzeccata, anche eticamente molto pulita, perché alla fine non propina niente di impossibile. Quello che si vede fare con l'auto si può fare tranquillamente. e quindi dobbiamo prendere spunti da questa nuova tipologia in cui le aziende non ti vendono più il prodotto, ma ti vendono l'esperienza. Poi nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate. Per trovare il video del trailer, basta cercare il nuovo Ford Track su YouTube, Google, eccetera. E' anche molto piacevole, quindi ve lo consiglio.